pubblicizza in vendita la special edition di Tecventago uscita da poco questo sacco di questa cosa è per 360 perchè quelle da 360 le scudo contiene un esclusiva tipo action figure tipo action figure di Cristi di Cristi Monteiro due cifre una colonna sonora è il 2A la limited edition di Tecventago sono due in vendita a 160 euro è un prezzo non la limited la super limited la super limited Cristi Montenegro edition voglio dire è che cazzo è che cazzo